Allora, buongiorno, siamo nel Ligio Scientifico Statale Galileo Galilei di La Mezza Eterne e vi presentiamo il lavoro didattico che si intitola Il Suvero, frutto di madre natura da salvaguardare e non sprecare. Allora, il progetto è pluripremiato in Italia e inoltre è stato ritenuto di grande attenzione da parte di Raiwe e perciò è stato ripreso dal programma intitolato Voyager e ora vi presentiamo il progetto. Ci sono piccoli gesti quotidiani che fanno bene al pianeta. Decidere di compierli o meno può fare la differenza. Oggi vogliamo farvi conoscere chi ha scelto di compiere un gesto importante e per farlo ha coinvolto un'intera città. Mi chiamo Maria Luigia, ho 17 anni e frequento il Ligio Scientifico. Il tuo cantante preferito? Beyoncé La tua canzone? Crazy in Love Ciao a tutti, bentrovati! Ogni anno in Italia vengono buttati 800 milioni di tappi di sughero Un terribile spreco perché il sughero è davvero prezioso, vero Maria Luigia? Assolutamente sì! Ciao, benvenuta a Voyager Factory! Grazie! Tre aggettivi per raccontarti? Forte, allegra, però anche lunatica. Ci troviamo alla Mezzia Terme in provincia di Catanzaro nel laboratorio di chimica del liceo scientifico Galileo Galilei. E tu, assieme ai tuoi compagni Simone e Vincenzo, ciao, benvenuti anche a voi, vi siete appassionati all'argomento sughero. Come è nato questo interesse? Discutendo in classe con la nostra professoressa di scienze, abbiamo visto che questo materiale è delle peculiari proprietà e quindi abbiamo capito che si tratta di un materiale alquanto prezioso e importante. Quali sono le caratteristiche che lo rendono unico? Si tratta di un materiale al 100% ecologico, riciclabile, rinnovabile, traspirante, fonoassorbente e termoisolante, che non rilascia sostanze nocive nell'ambiente e mantiene le sue qualità inalterate nel tempo. Non viene attaccato da insetti roditori ed è anche impermeabile, quindi comunque si parla di un materiale alquanto prezioso. Quindi invece di essere buttato dovrebbe essere raccolto e riciclato. Voi avete fatto proprio delle prove per saggiare le sue caratteristiche? Sì. Possiamo ripetere insieme questi test? Assolutamente sì. Vediamo. Quali sono le tue passioni? Io amo cantare, mi piace molto viaggiare e anche ballare. E siamo pronti per i nostri esperimenti. Prima prova. La prima prova riguarda l'inerzia termica del sughero, ovvero la sua capacità di assorbire calore dissipandolo lentamente. La prova è stata svolta attraverso l'impiego di un prototipo di casetta, costituita da una parete in sughero, una parete in fibra di legno, una in polistirene espanso e una in polistirene estruso. All'interno della casetta abbiamo poi posto una sorgente di calore e affinché quest'ultimo poi non si dissipasse, in superficie abbiamo invece inserito una piastra di vetro temperato. Qual è stato il risultato di questo test? Abbiamo visto che la variazione di temperatura tra la parete interna ed esterna del sughero è maggiore rispetto a quella degli altri materiali, a dimostrazione della sua capacità di trattenere il calore e dissiparlo lentamente all'esterno. Quindi è un ottimo termoisolante. Seconda prova? La seconda prova riguarda l'insonorizzazione acustica e la prova è stata svolta ponendo all'interno della casetta una sorgente sonora e poi attraverso il fonometro, quindi questo strumento che rileva il livello del suono, abbiamo fatto le opportune misurazioni. 60 minimo, 68 massi. Qual è stato il risultato? È emerso che grazie alla sua struttura spugnosa ogni singola cella del sughero ha la capacità di smorsare il suono e quindi di dissiparlo lentamente all'esterno. Quindi è anche un isolante acustico? Un ottimo fonoassorbente. È fonoassorbente. Terza prova, la prova del fuoco. Da questo esperimento è emerso che il sughero carbonizza ma non prende fiamma ed inoltre non rilascia sostanze nocive nell'ambiente. Davvero prezioso il sughero, specialmente nella bioedilizia ed è ecologico al 100%. Qual è il tuo sogno? Poter diventare ingegnere e allo stesso tempo poter coltivare la mia passione per il canto. Una volta compresa l'importanza di questo materiale, tu e i tuoi compagni, cosa avete deciso di fare? Abbiamo deciso di far partire la raccolta dei tappi di sughero nella nostra città, qui di Lamezia Terme. E avete davvero invaso la città con volantini e pieghevoli. E Lamezia come ha risposto? In maniera molto piacevole, positiva e partecipata. Abbiamo interessato wine bar, ristoranti, enoteche, parrocchie e tutti sono stati molto disponibili. Ma non solo, anche i privati cittadini ci portano direttamente i tappi di sughero qui a scuola. Ed ecco quanti tappi di sughero sono stati raccolti finora. È già una bella quantità, ma la raccolta continua. Maria Luigia, cosa stanno facendo i tuoi compagni? Allora, loro stanno smistando i tappi di sughero da eventuali tappi in plastica, silicone o anche capsule che accidentalmente sono finiti nelle nostre buste. Qual è il vostro obiettivo? È riuscire a poter raccogliere 4 tonnellate di sughero. A quel punto che farete? Vi daremo ad una ditta specializzata che si occuperà di trasformarli in pannelli per la biodilizia. Come ti immagini tra 20 anni? Tra 20 anni credo che diventerò mamma, spero, magari, non lo so. Però vorrei diventare anche una donna in carriera. Quindi una mamma in carriera, credo. Quindi in questo modo, non buttando i tappi di sughero, ma recuperandoli e riciclandoli, intanto diminuiscono i rifiuti indifferenziati ed è già un'ottima cosa. E poi verranno appunto rigonvertiti, trasformati in pannelli isolanti, quindi serviranno per usare meno energia per riscaldare. È insomma un circolo virtuoso perfettamente ecosostenibile. Ragazzi, davvero complimenti, complimenti per la sensibilità che avete dimostrato nei confronti dell'ambiente. Complimenti alla professoressa, eccola qui, professoressa Sesto, che ha dato questo ottimo input. E chissà che altri ragazzi non seguono il vostro esempio. Speriamo. E noi ci vediamo la prossima settimana per continuare a parlare di tutto quello che può far bene al pianeta.